La Toscana recupera punti nella gestione della spesa per i farmaci, uno dei nodi critici di un sistema sanitario nel complesso giudicato tra i migliori d'Italia dal sistema di valutazione dei sistemi sanitari MES Sant'Anna. Nei primi sei mesi del 2018 la sanità toscana ha recuperato il 4,1% nella spesa farmaceutica convenzionata sotto al tetto massimo fissato dall'Agenzia del Farmaco e si è ridotta del 4% sul fronte degli acquisti diretti di farmaci con un orizzonte preciso. L'obiettivo entro il 2019 è di riportare la spesa sia ospedaliera che convenzionata nei limiti previsti dalla legge e quindi riuscire a modificare quegli indicatori rossi delle valutazioni del MES ancora una volta in obiettivi verdi. Per invertire la rotta la Toscana ha adottato negli ultimi sei mesi un piano di interventi per l'appropriatezza farmaceutica, punti chiave, corretta gestione dei farmaci biosimilari, gestione unica dei magazzini farmaceutici Estar, monitoraggio della spesa insieme alle ASL e gruppi di lavoro con i professionisti. Noi abbiamo lavorato con i medici, non ci siamo inventati, abbiamo cercato come giusto che sia di non calare dall'alto nulla a nessuno ma di condividere con gruppi di clinici, chiaramente vi faccio un esempio per tutti, abbiamo lavorato per l'HIV piuttosto che per tutte le patologie ematologiche, parlo della parte oncologica ma abbiamo lavorato con gli ematologi, abbiamo lavorato con gli infettivologi. Tra gli strumenti adottati per riportare nei ranghi la spesa farmaceutica toscana anche la commissione terapeutica regionale e il gruppo di lavoro regionale permanente sui dispositivi medici.